Sì, non arriviamo a casa, non è che la mia scelta, non è che la mia scelta, non è che la mia scelta. Sì, non è che la mia scelta, non è che la mia scelta, non è che la mia scelta. Sì, sei tu? Tu sei filipina? Ah, c'è uno di quina. e sabona però non lo vediamo siamo in parte di essere autonomi in Martina e adesso lo vogliamo noi perfetto, grazie ma babbavilla ma i vi grazie